Dicevo che per trasparenza, Valeria, ti dico che questo sarà un webinar assolutamente introduttivo sulle opzioni, molto basic, dove appunto farò prima un piccolo censimento della sala per capire a che livello stare, ma fondamentalmente sarà un'introduzione, quindi per te, Valeria, potrebbero essere cose già molto da dare per scontate. Almeno spero, non si sa mai nella vita, però spero che siano cose già ben consolidate. Per gli altri invece potrebbero essere interessanti, anche Giampiero, voi siete tutti gente che ha fatto Indemale e quindi sapete già un po'. Anche Pietro Casula mi ricordo che aveva già fatto qualche cosa sulle opzioni. Va bene, ma comunque, buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento un po' particolare del Trading College, la rubrica mensile dedicata ad un argomento diverso, diciamo, rispetto ai classici che tratta Mirko nelle sue appuntamenti settimanali. E vado a partire, esatto. Ecco, allora, prima di iniziare, innanzitutto vi condivido lo schermo, così ci cominciamo a vedere, voilà. Poi do ufficialmente il benvenuto a tutti e parto chiedendovi, appunto, un pochino com'è la vostra situazione opzionistica. Guarda, vedo, faccio un poll, che è uno strumento di zoom che non ho ancora mai usato. Ciao, facciamo questa cosa. Oddio, cos'è successo? Guarda, aspetta. Credo fosse più semplice. Vabbè, non la facciamo troppo complicata, dai. Credevo fosse più semplice. Fa niente. Volevo giusto sapere, ragazzi, prima di partire, un veloce giro di tavola su qual è la situazione opzionistica di ognuno di voi. Perché sapete che stasera, chiaramente, parliamo di opzioni, o perlomeno quando ci sono di mezzo io, 99% di volte si parla di opzioni perché è un po' il mio strumento, è un po' la cosa che amo di più, che trado di più, che conosco meglio, chiaramente nel mondo del trading. E quindi, quando c'è da parlare di opzioni, tendenzialmente Mirko scarica a me il barile. E quindi, dicevo, per tarare un pochino il livello degli argomenti della serata, volevo fare un veloce giro di tavola, chiedendovi, diciamo, qual è un po' il vostro livello di conoscenza di questo strumento. Che cosa significa? Significa, datemi un voto semplicemente da 0 a 5, tipo le stelline, per farmi capire a che livello siete. Dove, chiaramente, 0 vuol dire non ho mai sentito la parola opzioni nella mia vita, non ho idea assolutamente di cosa stiamo parlando. 5 vuol dire sono un super saiyan delle option, allora vi passo il microfono e fate lezione voi. Scherzo. E, chiaramente, tutto il resto nel mezzo. 1 vuol dire che bene o male sapete cosa sono, ma non le avete mai trattate. 2 vuol dire che avete approfondito un minimo, magari con qualche lezione introduttiva o qualche libro, ma magari non avete mai fatto un trade. 3 vuol dire, invece, che le state, le masticate e avete anche già fatto qualche operazione e magari avete anche un conto con opzioni. 4 vuol dire che siete degli ottimi esperti e che conoscete già la materia e la tradate regolarmente. 5, appunto, ve l'ho già detto. Datemi un voticino qui sulla chat, così io riesco a capire a grandi linee come siamo messi. Ok? Le persone che conosco le so già valutare da solo, tipo Valeria, appunto. Però fa sempre piacere capire un po' meglio. Più che altro perché, sai, dire facciamo un webinar base sulle option può voler dire tutto e può voler dire niente, perché la materia è talmente ampia che la potrei prendere in mille modi diversi. Allora, è arrivato un 1, un altro 1, un 2, un altro 1, poi? Un altro 2. Dai ragazzi, gli altri? Su, su, votate. Vedo molti 1, che è perfetto per un webinar introduttivo, ovviamente. Però volevo capire se nel mezzo si nascondeva qualche livello 3 o 4 che aveva voglia. No, Pietro, non lo leggi perché non lo leggi. Abbiamo fatto l'upgrade alla versione di Zoom, quella da webinar e non da meeting, e quindi è giusto così. Stasera siamo una quindicina, invece, sono convinto che poi al riascolto, come sempre, a questi webinar in diretto di solito è sempre più o meno così, poi invece ci sono molti riascolti nei giorni successivi. Persone che guardano la registrazione. Dalle nostre statistiche compare così. Va bene, dai, vedo molti 1 e 2 fondamentalmente, quindi è perfetto per un webinar completamente introduttivo. Quindi io userò una presentazione standard che ho già usato in diversi altri video, se per caso voi avete guardato qualche nostro video introduttivo sulle opzioni, giusto come slide di base per aiutarmi nella spiegazione. Se l'avete già visto, amen, sicuramente nel chiacchierare qualche elemento nuovo verrà fuori, se invece via nuova, sicuramente è una presentazione efficace che uso da tanto tempo, proprio perché, a mio parere, veicola bene i concetti di base. Eccola qui. Allora, le opzioni per chi inizia. Questo sono io e che, per chi non mi conosce, mi chiamo Andrea Vaturi e semplicemente sono un trader che, come vi dicevo poco fa, si è innamorato delle opzioni, a cui piacciono molto gli ETF, che fa tanto trading sugli utili, cioè gli earnings, quella cosa che c'è proprio in questo periodo, cioè la pubblicazione degli utili delle aziende americane, che è un tipo di trading che si fa prevalentemente con le opzioni, se non esclusivamente con le opzioni, eccetera, eccetera. Sì, sono lavorato in economia alla Bocconi, ma questo non ha niente a che vedere col fatto che faccio il trader, ci tengo a precisarlo, perché alla Bocconi ti insegnano tutto, tranne che trasformare 10 euro in 11 ti fanno solo diventare un fantastico impiegato per le multinazionali, cosa che a me non piaceva. Ho fatto tanto sport nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio, ho fatto parte della nazionale per tanti anni, non ve ne frega niente, ma ve lo dico così come completezza, più che altro perché dopo questi webinar capita che la gente google il mio nome e trovi le robe di pattinaggio e non le robe di trading, perché sono molto più virali sul web, e allora dici, ma che cacchio c'entra il pattinaggio col trading? Niente, semplicemente è stato lo sport che ho fatto nella vita. Tutto lì. E vabbè, e chiaramente sono un imprenditore insieme a Mirko, eccetera, eccetera. Vabbè, questo ve ne frega il giusto. Più che altro vi può interessare invece il fatto che, come costola del progetto Vantaggio Sleale, qualche anno fa ho fondato il sito web opzionetica.com, che è un sito interamente dedicato alla formazione in opzioni. La cosa interessante è che è stato un progetto semidormiente per qualche anno, nel senso che avevo pubblicato pochi contenuti, nonostante fossero pochi, avevano un discreto successo sul web. Finalmente, quest'anno, a gennaio 2020, tipo un buon proposito del nuovo anno, io e Mirko abbiamo invece deciso finalmente di metterci le mani seriamente e farlo partire. Per cui, dai prossimi giorni, giorni barra settimane, vedrete che sia il sito di Opzionetica che il canale YouTube, risorsa importantissima di Opzionetica, prenderanno il via con una pubblicazione molto più costante di contenuti e con un sacco di roba interessante. Per cui potete tranquillamente far riferimento a questa, quella che diventerà, se tutto va per il verso giusto, una miniera di formazione sull'argomento Opzioni, sia per gli entry level che per quelli un pochino più specializzati, un pochino più esperti. Ad ogni modo, se andate, in questo momento il sito è in rifacimento, proprio per la ragione che vi spiegavo, se andate sul canale YouTube, se andate su YouTube e digitate Opzionetica con la K, trovate il canale, lì ci sono una marea di webinar simili a questo, alcuni invece anche un pochino più avanzati e tutta roba decisamente utile, se vi piace l'argomento Opzioni. Queste meravigliose opzioni, questo strumento fantastico, strategico, tattico, ci starebbero mille aggettivi associati alla parola opzioni. Sono strumenti molto versatili, sono strumenti creativi da un certo punto di vista, cioè permettono all'investitore, al trader, di aggiungere quell'elemento di creatività che nel trading tradizionale viene un po' a mancare, perché il trading tradizionale è monodirezionale, anzi, più precisamente è monodimensionale, è bidirezionale perché si può andare long e short, ma è monodimensionale perché l'unica dimensione che potete tradare nel momento in cui fate trading tradizionale è la direzione del prezzo. Potete semplicemente mettervi long con la speranza che salga e mettervi short con la speranza che scenda. L'unica cosa che potete tradare è la direzione del prezzo. Quando entrate nel mondo, nel magico mondo delle opzioni, è esattamente come se steste facendo il passaggio dalla dama, dal gioco della dama, dove si può semplicemente muovere le pedine avanti, indietro e in diagonale, quindi monodimensionale o solo la direzione, al gioco degli scacchi, dove invece ogni pedina può fare movimenti diversi, ci sono decine di strategie, c'è l'elemento della creatività, c'è l'elemento della sequenzialità delle operazioni, ci sono degli elementi di arte del pensiero, della creatività, della strategia che nel mondo della monodirezionalità, cioè della dama in un caso, del trading tradizionale dall'altro, non ci sono. Per cui diventa anche decisamente più bello, più divertente, più interessante fare trading, anche se ovviamente anche il trading tradizionale offre un sacco di spunti creativi e interessanti, ma con le opzioni si decuplicano, ok? Da qui è la metafora con gli scacchi che noi usiamo dappertutto, compreso sul sito di opzione etica. Poi, come dicevo poco fa, si contrappone al trading tradizionale per essere uno strumento multidimensionale, cioè significa che non tradiamo più solamente il movimento del prezzo, la direzione del prezzo, ma cominciamo a tradare altre variabili, cominciamo a tradare cose come il passare del tempo o le variazioni di volatilità o l'accelerazione del prezzo o la bidirezionalità del movimento del prezzo, cioè ci sono veramente tante variabili che potete tradare con lo strumento opzionistico che sono tutte possibilità che nel mondo del trading tradizionale non esistono, non ci sono. Altro elemento importantissimo, le opzioni offrono una leva, una sorta di leva intrinseca allo strumento, ok? Non è la stessa leva che offrono i CFD, ok? I CFD sul Forex, sulle azioni, sui future, sugli indici, quelli che trovate nei classici brokerini che vi rompono i coglioni tutto il giorno con 600 telefonate per proporvi di aprire il conto, quelli, ok? Quella leva che vi offrono quei broker lì, quella che è stata ridotta da ESMA recentemente, che è stata portata da 1 a 400 a 1 a 30 per i trader privati, non è la stessa tipologia di leva che vi offrono le opzioni. Le opzioni vi offrono una leva decisamente più interessante, ok? Perché? Perché la leva tradizionale dei CFD amplifica in modo esattamente paritario i profitti e le perdite, ok? Se andate in leva 1 a 10, vi si decuplicano i profitti e vi si decuplicano le perdite, d'accordo? Corretto? Cioè, è semplicemente un amplificatore della magnitudo dell'operazione che state facendo, sostanzialmente col broker che è come se virtualmente vi prestasse del denaro. Nel caso delle opzioni è diversa la leva che vi viene offerta, perché le opzioni sono fondamentalmente dei contratti. Sono dei contratti che si riferiscono ad un sottostante finanziario, ok? Cioè, le opzioni sulle azioni, un contratto di opzione sulle azioni controlla 100 titoli di azione. Detto in maniera semplice, un'opzione su Apple controlla 100 titoli di Apple, 100 titoli dell'azione di Apple, ok? C'è un rapporto 1 a 100 secondo un moltiplicatore che in ogni mercato finanziario è diverso. Nel mondo delle azioni è 1 a 100, nel mondo dei future è 1 a 1, cioè un'opzione controlla un contratto future e ci sono mille altre casistiche. Per esempio, in Italia il moltiplicatore sulle azioni è diverso, ma chi se ne frega, il concetto è prima di tradare un prodotto, un mercato con le opzioni, chiaramente andrò ad informarmi su quali sono le caratteristiche del prodotto e quindi il suo moltiplicatore. La questione qual è? Che se io volessi comprare le famose 100 azioni di Apple, nel momento in cui adesso vale Apple oggi 327 perché è pure salita per gli earnings che ha fatto ieri, allora chiaramente mi servirebbero 327 dollari d'azione per 100 azioni 32.700 dollari di valore emozionale. Chiaramente il broker mi offrirà un po' di leva, per esempio Interactive Broker mi offre una leva 1 a 4, quindi mi servirà un quarto di 32.700 dollari, ma non è comunque così conveniente in termini di leva rispetto al comprare una call, un'opzione call su Apple. Perché dico comprare un'opzione call? Perché la call è un'opzione di natura rialzista, ok? Nell'essere un'opzione di natura rialzista comprare una call ha un po' lo stesso tipo di conseguenze rispetto all'andare long di titolo. Cioè cosa significa? Che se io vado long di titolo e compro 100 titoli di Apple, guadagno se sale Apple e perdo se scende Apple, giusto? Semplice. Se compro una call succede sostanzialmente la stessa cosa. Se Apple sale la mia call guadagna, se Apple scende la mia call perde. Ma c'è un'enorme differenza. La differenza è il fatto che comprare una call su Apple dipende dallo strike, dipende dalla scadenza, dipende dalla serie di variabili, va bene, fatto sta che mi costa pochi centinaia di dollari. Ok? Potrebbe essere 100 dollari, potrebbe essere 600 dollari, fatto sta che mi costa una cifra di quell'ordine di grandezza lì a seconda, ripeto, se vado molto lontano nel tempo, sto molto vicino nel tempo, perché le opzioni appunto hanno delle scadenze, come vedremo fra poco, fatto sta che mi costa poche centinaia di dollari. Ok? E quindi mi permette di guadagnare quasi come se avessi comprato i 100 titoli di Apple, ma invece che investire svariate migliaia di dollari o addirittura svariate decine di migliaia di dollari se il mio broker non mi offre leva e rispetto invece ad investirne solamente poche centinaia. Ok? Ci siete su questo punto? Ho cercato di semplificare il più possibile. C'è un altro aspetto importante, la gestione del rischio. Le opzioni offrono, se usate in un certo modo, una straordinaria possibilità di gestione del rischio. Che uno verrebbe da dire, ma come, scusami, ma fammi capire un attimo, io sono un livello 1 sul mondo opzionistico, mi sono dato il voto 1 nelle opzioni. Io ho sempre sentito dire da tutti che le opzioni sono una cosa rischiosissima e che con le opzioni, che vendendo opzioni ci sono persone che si sono rovinate, che hanno perso la casa, che hanno perso un sacco di soldi, bla bla bla. E tutti dicono che le opzioni sono difficili e che sono rischiosi. Tu adesso mi dici che offrono uno straordinario controllo del rischio, c'è qualcosa che non va. Bene, caro livello 1, hai ragione tu e ho ragione anche io. Abbiamo ragione entrambi. Nel senso che le opzioni possono essere molto rischiose esattamente come possono essere molto rischiosi i sottostanti, nello stesso identico modo. Non c'è nessuna ragione valida per la quale bisognerebbe ritenere le opzioni più rischiose di quello che sono rischiosi i sottostanti. Cioè, quando io vendo delle opzioni, effettivamente mi sto esponendo dal punto di vista teorico, ha un rischio molto alto, ma che non è un rischio superiore a quello a cui mi sto esponendo nel momento in cui compro il titolo. Ok? Se io compro un titolo come Apple e investo i famosi 32.700 dollari comprandone 100, teoricamente qual è il rischio a cui mi sto esponendo? Teoricamente sarebbero tutti 32.700. Se Apple va a zero perdo tutto, giusto? E uno dice no, ma aspetta, prima di tutto Apple non va a zero. Siamo d'accordo. E secondo, io posso usare delle cose come uno stop loss per controllare il rischio. Giusto? Per carità, sacro santo. Ma allora perché non applichi la stessa logica anche alle opzioni? Se io vendo una put su Apple, che è l'azione simile da un certo punto di vista, dal punto di vista del profilo del rischio, è l'azione simile a comprare 100 titoli di Apple, perché dovrebbe essere così tanto più rischioso di comprare titoli? Anche lì puoi perdere al massimo i 32.700 dollari, anzi meno, teoricamente, perché incassi un premio, e anche lì puoi mettere uno stop loss. Quindi questa bagianata che le opzioni sono rischiose è semplicemente dovuta al fatto che alcuni broker marginano le opzioni molto meno rispetto che all'acquisto del sottostante e quindi marginando meno cosa fa il broker, il trader Pirla? Siccome margina meno, vede che ne può vendere di più e allora ne vende di più. Quindi invece che avere un portafoglio dove può comprare 150 titoli di Apple per il margine che hai, allora compra 150 titoli di Apple perché gli occupano un certo margine, invece vendendo le put vede che ne può vendere molte di più perché gli occupano meno margine e quindi ne compra molte di più per cui fa un'operazione che corrisponderebbe magari ad aver comprato 500 titoli di Apple. Quindi l'operazione che gli va male gli va male molto più rovinosamente rispetto a quella fatta col suo sottostante. Capito? Perché molte persone ritengono le opzioni pericolose e perché effettivamente molte persone si sono rovinate con le opzioni? Questa è la ragione. È sempre un problema di money management, di risk management e di margin management come sempre nel trading. Sempre. Ok? Ma questo è tutto un ragionamento, tutto un discorso che è relativo alla vendita di opzioni. Ok? Perché la vendita di opzioni effettivamente espone a un rischio appunto paragonabile a quello del comprare il sottostante. Quando invece ragioniamo sull'altra metà del cielo, sull'altra faccia della medaglia che è quello dell'acquisto di opzioni, ecco lì la musica cambia completamente perché in quel caso invece il controllo del rischio può effettivamente essere perfetto, straordinario. Perché? Perché quando compro un'opzione, torniamo all'esempio che facevamo poco fa, quando compro una call su Apple e spendo quei pochi, quelle poche centinaia di dollari, prima dicevamo fra 100 e 600, ovviamente può essere anche molto di più, ma a grandi linee il range potrebbe essere quello, quando spendo 300 dollari per comprare una call su Apple, il massimo rischio della mia operazione sono quei 300 dollari, cioè il costo dell'opzione su Apple. E più di quei 300 dollari che ho investito per comprare questo contratto, non posso perdere cascasse il mondo. Ci siete? Impossibile. Perché al massimo il contratto che ho comprato può andare a zero e perdere tutto il suo valore e di conseguenza io vado a perdere quella quantità lì. Ma capite che è un tipo, essendo il valore di un contratto che può al massimo esaurirsi, mi offre un tipo di protezione molto diversa rispetto a quella offerta da uno stop loss. Perché uno stop loss prima di tutto può essere saltato può esserci un gap può non scattare per liquidità per spread per momenti di alta volatilità per mille ragioni ma soprattutto uno stop loss funziona con una dinamica di tipo touch no touch cioè significa che lo stop loss può venire toccato oppure non viene toccato. Ok? Se il sottostante dopo che io ho messo lo stop loss su una certa operazione mi viene a toccare lo stop loss e mi sbatte fuori perché chiude la posizione e poi ricomincia ad andare dalla parte che mi era favorevole io mi mangio i coglioni perché lo sappiamo tutti benissimo sono fuori dall'operazione e non sto più guadagnando. Ok? Nonostante avessi azzeccato la previsione sul movimento del titolo. La grande figata delle opzioni è proprio questa. Non c'è questo tipo di dinamica non dovete essere esposti a una dinamica di tipo touch no touch se io compro una call e Apple prima di salire scende un bel po' e poi sale io con le opzioni sono ancora dentro all'operazione e la mia call è ancora in gioco. Ok? Perché è un contratto. È come se avessi comprato un'assicurazione ma di tipo rialzista invece che di tipo ribassista come sono tutte le assicurazioni che compriamo noi sulle nostre automobili sulle nostre case sulla nostra vita. Ok? Che sono tutte le assicurazioni che ci proteggono da una diminuzione del valore del bene sottostante. In questo caso è un'assicurazione rialzista. Quindi io compro il contratto pago un premio e guadagno se il titolo sale invece che se il titolo scende. Posso fare anche quella ribassista si chiamano put. Ok? Molto simile a quella a cui siamo abituati. Il concetto è siamo in una dimensione completamente diversa e molto più intelligente rispetto al famoso stop loss. Ci siete perché è una cosa molto più figa a livello di gestione del rischio? Ho fatto un monologone super power quindi mi fermo un secondo e vedo se ci sono domande. Ok? Prendo un attimo di fiato. Ragazzi mi state seguendo? Tutto chiaro? Fino a qui? Cose troppo basic? Le sapevate già tutte? A parte che più che nozioni queste qui sono punti di vista diciamo eh. sono il mio modo di vedere lo strumento opzioni. Dai datemi un feedback. pronto? Ci siete? Siete addormentati? Ne avreste le ragioni eh? O avete aperto Youporn come la maggior parte dei trader di fianco? No. Tutto chiaro? Chiaro fin qui? Tutto chiaro? Va bene. Sì si vede bianco Pietro perché per poter vedere le domande devo fare swipe nell'altra schermata e poi torno alle slide. Va bene vado avanti presumo che sia chiaro. altro punto importante relativo al mondo delle opzioni ovviamente il fatto che sono degli strumenti che si possono combinare. D'accordo? Al contrario anche lì del trading tradizionale perché in una posizione di trading normale non potete andare sia long che short però anche laterale eccetera eccetera. Sì qualche broker vi permette di fare edging ma edging non serve a niente perché andate long e short contemporaneamente è come se foste flat ok? Invece con le opzioni no è molto diverso potete creare dei pay off si chiamano cioè i profili di rischio rendimento completamente creativi completamente particolari che beneficiano dal fatto che il sottostante sta in una certa zona che beneficiano dal fatto che il sottostante esploda in entrambe le direzioni si possono fare mille cose e creare tutte quelle cose di cui quelle costruzioni di cui sicuramente avrete sentito parlare almeno una volta nella vita come le iron condor le bull call spread le iron butterfly le short straddle le long strangle le calendar e chi più ne ha più ne metta ok? Ce ne sono veramente di tutti bene torniamo al concetto di prima che cosa sono le opzioni l'abbiamo detto fondamentalmente sono dei contratti e io qui vi ho messo l'esemplificazione più stringata possibile più essenziale possibile di cosa contiene virtualmente spiegato in italiano semplice il contratto d'opzione quali sono le condizioni del contratto d'opzione ok? no pardon e sono quelle che vedete qui cioè un contratto d'opzione se fosse un foglio di carta scritto ovviamente non lo è perché oggigiorno è tutto negoziato tramite dei dei super mega cervelloni elettronici e software chiaramente ma se fosse invece un pezzo di carta scritto sarebbe qualcosa di simile a questo il contratto d'opzione è un contratto che dà il diritto di acquistare se stiamo trattando di una call o vendere se stiamo parlando di una put un certo bene che si chiama sottostante ok? che è quindi l'oggetto del contratto entro una certa data che è la scadenza quindi sono contratti che hanno una caducità non sono contratti eterni ovviamente come non lo è nessun contratto c'è una data di scadenza e il contratto permette di acquistare o vendere il certo bene ad un certo prezzo che si chiama strike ok? di tot dollari ovviamente questi contratti si negoziano si tradano si comprano e si vendono e hanno un valore economico di per loro se così si può dire cioè il contratto stesso ha un valore oltre al valore che ha il bene sottostante che è oggetto del contratto ma il contratto stesso ha un valore ha un prezzo e noi lo possiamo negoziare io lo posso vendere a te tu lo puoi comprare da me o viceversa ok? il valore intrinseco del contratto si chiama premio termine che ovviamente richiama il mondo assicurativo e lo fa e lo fa con ragione perché le opzioni sono dei contratti di tipo assolutamente assicurativo ok? in tutto e per tutto simili all'ambito assicurativo cosa vuol dire? vuol dire che noi paghiamo se stiamo comprando questa opzione noi paghiamo una certa cifra per comprare il diritto di acquistare un certo bene ad un certo prezzo entro una certa scadenza ok? se invece fosse il contratto di assicurazione della nostra macchina noi staremmo comprando dalla compagnia assicurativa il diritto di vendergli alla compagnia assicurativa venderle femminile femminile teoricamente un certo bene tipo la nostra macchina entro una certa scadenza alla fine dell'anno o dei sei mesi del periodo quello che è ha un certo prezzo il valore della macchina 40.000 euro ok? cosa vuol dire? vuol dire io sto comprando questa macchina la sto assicurando per il suo valore di 40.000 euro un domani succede un incidente il suo valore scende rovinosamente io ho il diritto tra virgolette passatemi la metafora di venderla alla compagnia assicurativa a 40.000 euro l'avete mai vista l'assicurazione in questo in questo modo un po' particolare? è esattamente come se voi vendeste all'assicurazione la vostra rottame per 40.000 euro e lei la compagnia assicurativa è costretta a comprarlo è costretta a comprarlo da voi per 40.000 euro ok? perché? perché avete stipulato un contratto che dà a voi compratori il diritto e a loro venditori l'obbligo di effettuare una certa transazione ad un certo prezzo entro una certa data questo è il concetto che sta dietro all'argomento opzioni ok? a fronte di questo voi quando avete comprato il contratto avete speso una certa cifra che la compagnia assicurativa ha incassato e così funziona il mondo dei contratti di opzione le compagnie assicurative cercano di venderne il più possibile di raggranellare il più premio possibile e sperano di doverne pagare il meno possibile in infortuni diciamo in incidenti in sinistri e invece noi compratori siamo contenti del fatto che ci siamo tolti il rischio ok? questo è tutto il concetto è tutta una questione di remunerazione del rischio chiaramente ogni volta c'è un venditore c'è un compratore voi come trader privati avete tutte le possibilità di essere o compratori di opzioni o venditori la cosa bella del trading in opzioni è che è come se poteste aprirvi la vostra piccola compagnia assicurativa e quindi se vi piace di più il profilo dell'essere piccola compagnia assicurativa e quindi vendere tanto premio e incassare tanti soldi certi a fronte di qualche qualche evento incerto un po' più importante che potrebbe investirvi allora siete dei perfetti venditori di opzioni dall'altra parte invece se siete più un profilo da compratore avrete il vantaggio di poter spendere relativamente pochi soldi a fronte di coprirvi da un rischio molto grande che nel caso del trading è ovviamente quello che il sottostante vada dalla parte sbagliata rispetto alla vostra previsione ci siete? bom questo è l'esempio classico che faccio per far capire cosa sono le opzioni call rapidamente c'è una casa che vale 100.000 euro e io la voglio comprare in questo momento non ho i soldi vado dal proprietario della casa e gli dico ehi ciccio io fra sei mesi ce li avrò questi 100.000 euro ma adesso non ce li ho facciamo un contrattino dove tu mi riservi questa casa al prezzo di adesso e la togli dal mercato la riservi per me e blocchiamo il prezzo 100.000 euro appunto per sei mesi e lui dice sì sì certo nessun problema possiamo farlo questo contrattino ma non è gratis cioè non è che te la riservo a te al prezzo di adesso con tutte le fluttuazioni che ci potrebbero essere nell'arco di sei mesi e te lo faccio gratis no caro mi paghi questo accordo ha un valore ha un valore economico mi paghi 3.000 euro lui incassa questi 3.000 euro sicuri che non sono una caparra sulla casa non è un anticipo è proprio il costo del diritto del contratto che si sta stipulando dell'accordo e a quel punto da più a sei mesi ci possono fondamentalmente verificare due scenari quello che il valore della casa sia sceso cioè che non valga più 100.000 euro ma sia andato a 70 perché si è degradato il quartiere in cui stava e a quel punto io che avevo comprato il contratto sei mesi fa quel contratto mi ci posso pulire letteralmente la dispensa cosa avevate pensato la dispensa degli alimentari lo butto lo straccio non serve più a niente perché mi sta dando il diritto di comprare a 100 una roba che sul mercato ne vale 70 quindi non ha assolutamente nessun senso di essere lo butto via vado dal se mi interessa ancora l'immobile vado dal proprietario e lo compro a prezzo di mercato vado lì e lo compro a 70 dico quanto vale? 70 eh ciao tieni lo compro a 70 ok? ho perso quei 3000 euro di premio che avevo pagato sei mesi fa viceversa il valore della casa è salito quindi da 100 è andato a 130 ok? perché gli hanno aperto la metropolitana sotto molto bene adesso sì che il mio contratto ha un grandissimo valore perché è un contratto è un pezzo di carta che mi dà il diritto di comprare a 100 qualcosa che sul mercato vale 130 quindi è un valore straordinario capite bene io adesso vado dalla proprietà e dico ciccio devi rispettare la parola che hai preso sei mesi fa rispettare il contratto quindi tu adesso mi vendi questo immobile a 100 io sborso 100.000 compro l'immobile e lo rivendo immediatamente al suo valore di mercato di quel momento che sono 130 quindi incasso subito un profitto di 30.000 a cui devo solamente sottrarre i famosi 3.000 che ho speso sei mesi fa per comprare il contratto quindi ho un profitto complessivo di 27.000 in questa operazione immaginaria che abbiamo fatto la cosa molto interessante delle opzioni qual è? che io adesso in questo esempio teorico che vi ho fatto ho simulato che la persona dovesse sborsare i 100.000 euro per comprare la casa e poi potesse fare tutto questo ambaradan per tirare fuori questi 27.000 euro di profitto nella realtà le cose sono ancora più fighe perché? perché nel mondo opzionistico io non avrei teoricamente bisogno di fare questo passaggio e di sborsare i soldi per comprare il sottostante cioè la casa in questo caso ma avrei potuto direttamente cedere il contratto direttamente cedere il contratto sarei potuto andare da uno e dirgli ciccio io ho in mano questo pezzo di carta qua se vuoi te lo vendo a quanto me l'avrebbe comprato lui? non lo sappiamo nel caso teorico che abbiamo fatto perché chiaramente è una simulazione è inventato ma sicuramente me l'avrebbe comprato a un prezzo molto alto perché qualunque cosa che gli faccio comprare quella casa un po' meno del prezzo di mercato per lui è conveniente d'accordo? metti che glielo vendevo a 25.000 lui avrebbe speso 25.000 e avrebbe potuto comprare la casa a 100 quindi complessivamente avrebbe speso 125.000 e l'avrebbe potuta rivendere immediatamente a 130 avrebbe fatto 5.000 euro di profitto rapido a lui conveniva e io avevo speso 3.000 per una cosa che poi ho rivenduto a 25.000 cioè profitto in percentuale stellare ok questo è il mondo delle opzioni perché nel mondo delle opzioni si possono tranquillamente fare ritorni da 60% 70% 120% 520% tranquillamente percentuali di questo tipo perché che nel trading normale sono impensabili proprio per questa ragione per la leva che offre la possibilità di negoziare i contratti invece che il sottostante l'esempio opposto è quello delle put abbiamo un diamante che vale 80.000 euro che io voglio assicurare perché è il diamante della nonna vado alla compagnia assicurativa stipulo un contratto di scadenza un anno di durata un anno che mi costa 5.000 euro di premio cosa può succedere da qui a un anno niente che il valore del sottostante cioè del diamante non si muova rimanga fermo addirittura salga e allora io quei 5.000 euro lì ho buttati dalla finestra chiaramente l'assicurazione non mi è servita e se la voglio riassicurare devo spendere altri 5.000 euro viceversa se il valore del diamante scende perché me lo rubano o perché si scopre che è un falso o mille altre ragioni allora a quel punto invece il mio contratto assicurativo assume un valore mostruoso e a quel punto chiaramente lo esercito si dice tecnicamente esercito il diritto che c'è allegato eccolo qui di nuovo il mio famoso contrattino a seconda di dove crocetto se su call o su put e a seconda delle variabili che gli scrivo dentro e a seconda se firmo dal lato del compratore o dal lato del venditore voi sareste compratore di call o compratore di put oppure venditore di call o venditore di put che sono le quattro operazioni di base le quattro operazioni essenziali del trading con le opzioni che sono esattamente come le sette note cioè con quelle quattro operazioni di base ci potete comporre qualunque sinfonia finanziaria ok ci potete comporre qualunque operazione di opzioni con queste quattro cose di base comprare call vendere call comprare put vendere put a seconda di come le combinate in termini di scadenza sottostante strike quantità potete raggiungere qualunque tipo di payoff chiaro? eccole qua vedete sono proprio riassunte qua nella slide esattamente come se fossero i quattro colori primari combinali in modi diversi e ottieni tutti i colori del mondo le sette note sono sempre quelle ma combina le modi diversi ritmi diversi sequenze diverse e otterrai qualunque tipo di sinfonia ok siamo un po' lunghi coi tempi ma vi volevo giusto far vedere qualche payoff payoff è questo diagramma dove noi mettiamo sull'asse orizzontale il prezzo del titolo e sull'asse verticale il nostro profit e loss e disegniamo l'andamento della nostra operazione una normale operazione long nel trading tradizionale funziona così cioè io entro dove c'è il puntino grigio e se sottostante sale guadagno se sottostante scende perdo facile facilissimo giusto? se faccio short è esattamente il contrario se scende guadagno se sale perdo semplicissimo questo è il payoff di una normale operazione di trading tradizionale ok? nel mondo delle opzioni cambia significativamente perché se compro una call il mio payoff è fatto così se sottostante sale guadagno anche se un po' meno o un po' più tardi rispetto a quella del sottostante ma dall'altra parte se mi scende non si perde mai per nessuna ragione più di quello che ho pagato per il sottostante e non ho limiti all'upside di profitto questo è il payoff di un acquisto di call cioè di andare long di una call gli altri ve li faccio vedere rapidamente questo è andare long di una put quindi è esattamente uguale ma al contrario e poi ci sono le versioni vendute se vendo una call il massimo che posso guadagnare è il premio incassato ma posso teoricamente perdere anche molto non c'è limite teoricamente se non lo limito io in qualche modo e dall'altra parte posso vendere una put e avrò la situazione opposta ok questo è quanto questo è quanto ovviamente questo è un esempio di come potrei posizionarmi se combinassi due operazioni in opzioni tipo comprare una call e comprare una put contemporaneamente sullo stesso sottostante allo stesso strike otterrei una long straddle cioè un'operazione con questo payoff bidirezionale che mi fa guadagnare sia se sottostante sale sia se sottostante scende e invece mi fa perdere una quantità definita se sta nella stessa se sta in una certa zona di prezzo chiaro? questo è una velocissima panoramica del mondo opzioni ok chiudo dicendovi dopo chiaramente vedo le eventuali domande che ci sono chiudo raccomandandovi solo una cosa che mercoledì 5 non mercoledì se non sbaglio ovvero 3 4 5 si mercoledì 5 cioè il prossimo con Mirko faremo un webinar di presentazione del progetto che di cui vi parlavo all'inizio cioè quello di opzione etica in particolare legato alle opzioni sul forex perché in pochi trader sanno che esistono delle straordinarie opzioni sul forex quando c'erano le opzioni binarie tutti erano impazziti per il fatto di poter opzionare il mondo del forex sono crollate le opzioni binarie e tutti tristemente sono tornati ai cfd non sapendo che invece esistono le opzioni vere quelle non binarie ma quelle vere sul forex che si tradano con una piattaforma come quella che vedete qui ok a cui gente come Valeria è ben abituata perché appunto è un è una è una piattaforma che permette di tradare bene le opzioni sul forex si chiamava options ma ce ne sono anche altre e in più la versione mobile di ava options è ancora più figa di quella che vedete adesso e si possono tradare le opzioni su tutti i cross di forex beneficiando di tutti i vantaggi delle opzioni controllo del rischio multidimensionalità combinazioni bidirezionalità bla 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 tutto quello che abbiamo detto fino adesso quindi se vi piace l'idea di cominciare a fare un training un pochino più evoluto più raffinato anche sui cross valutari seguite il webinar che faremo mercoledì prossimo dove presentiamo questo progetto che sarà appunto sicuramente molto utile e formativo e e speriamo anche profittevole ovviamente per tutti voi va bene ragazzi una bella cavalcata siamo andati leggermente lunghi ho sforato la mezz'ora Mirko domani mi bacchetta perché aveva detto mezz'ora al massimo vi chiedo qualche feedback se ci sono domande ovviamente ed eventualmente poi vi saluto ditemi se c'è qualche passaggio che non è stato chiaro o che o su cui si è andato troppo veloce ci siete se è tutto ok grazie ok finora poi ma Piero non ho capito non ho capito la tua osservazione cosa intendi dire intendi dire la parte applicativa non mi è chiara la tua domanda quello di stasera era un webinar introduttivo quindi chiaramente abbiamo solamente fatto una panoramica dell'argomento ah la messa in opera e beh la messa in opera Piero la messa in opera è tutt'altro è tutt'altro paio di maniche ovviamente bisogna bisogna entrare molto più nel pratico ed è questo il motivo per cui noi dopo tutta la parte teorica facciamo la parte applicativa che sono le sale trading dove effettivamente ci troviamo una o due volte a settimana tutti insieme online per operare in reale su conti facendo proprio le operazioni di compravendita e persone come quelle che sono collegate stasera come Valeria come Giampiero come diversi altri seguono le sale trading e operano perché la parte pratica è di tutt'altra pasta questa era proprio solo la teoria ok? altre domande ragazzi? osservazioni? questioni varie questioni varie va bene vedo che non arrivano domande o osservazioni quindi sarò ottimista e penserò che sia stato tutto abbastanza chiaro o comunque o comunque ok per stasera va bene ragazzi allora vi auguro una buona serata vi saluto domani carico la registrazione sul 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 sito e ovviamente ci sarà come sempre dell'extra materiale da consumare che vi caricheremo sempre sulla sezione riservata del trading college va bene? ciao a tutti ragazzi buona serata alla prossima ciao a tutti